Il Consiglio regionale giovedì all'unanimità ha approvato questa legge che riguarda la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Ha approvato l'unanimità e naturalmente va il ringraziamento a tutti i consiglieri regionali, ma va anche la sottolineatura che si tratta di una legge importante. Cinque regioni soltanto prima dell'Abruzzo avevano una legge che tutelasse la sicurezza e la fruibilità di tante miniere dismesse. In Abruzzo sono 40 le miniere dismesse, sono in tutte e quattro le province, ma principalmente nel giacimento minerario della Maiella, nella parte settentrionale, riguardano 12 i comuni e poi nella parte dell'Aquilano. Che cosa comporterà questa legge? Innanzitutto indirizzi unibuci agli enti da parte della regione Abruzzo per la fruibilità di queste miniere, che significa incentivare un turismo open air, slow, lento, che l'Abruzzo comporterà anche la destagionalizzazione del nostro turismo, riscoprire queste miniere da un punto di vista di storia del lavoro, della loro morfologia, ma anche della loro importanza naturalistica. Voglio ricordare che in particolare le miniere della parte settentrionale della Maiella spesso sono state individuate tra i 90 geositi del Geoparco dell'UNESCO e quindi sono importanti anche per questo. Ma possono soprattutto rappresentare una testimonianza di quella che fu la storia del lavoro di tantissime donne e di tantissimi uomini che hanno lavorato in queste miniere e che proprio forse per l'abitudine a lavorare queste miniere poi andarono in Belgio a Marsinel e in gran parte delle persone che sono decedute purtroppo nella terribile tragedia che ha riguardato Marsinel venivano proprio da tutti i rivaliani, Manopello e Letto Manopello. Ecco, oggi è un inizio, perché adesso servirà il disciplinare da parte della Giunta regionale, ma è un inizio che veramente guardiamo con grande ottimismo.